Ad Albino è in arrivo un intervento di riqualificazione per la piazza del santuario della Madonna della Gamba a Desenzano. Che cosa avete in programma di realizzare? In realtà questo intervento era già stato inserito nel POP dell'anno 2020. Poi la situazione emergenziale, il Covid, ci ha obbligato a mettere la nostra attenzione, le nostre risorse su altre situazioni un po' più brutte e meno felici. Adesso possiamo riprendere questo intervento che è atteso da moltissimo tempo dalla comunità di Desenzano. Il piazzale antistante, il santuario della Madonna della Gamba, il piazzale dove sorge la famosa fontana, ormai penso che il suo ultimo intervento risalga agli anni 20, anni 30. È molto ammalorato, si tratta di un fondo realizzato in pavè, matoncini di porvido con le geometrie della coda di pavone. Il nostro intervento è molto interessante, non comporta soltanto un rifacimento in sé del fondo, del manto della piazza, ma vuole anche mettere in sicurezza il breve e poco profondo sagrato della chiesa e anche la stessa fontana che da anni è oggetto di danneggiamenti da parte delle auto in manovra. Quindi realizzeremo proprio una piattaforma pedonale compresa tra la fontana e il piccolo sagrato dalla chiesa, utilizzando anche elementi in pietra bianca che vanno a legare proprio il piccolo sagrato che è fatto in pietra bianca con la piazza che è fatta in pavè, in questo porfido un po' scuro. Tutta la parte pedonalizzata compresa tra la fontana e la chiesa avrà una geometria a losanghe, a rombi, all'interno del quale metteremo ancora il pavè, vedremo che disegno utilizzare. Verranno anche inseriti degli elementi architettonici sempre in pietra bianca a protezione appunto di questa piattaforma pedonale compresa tra la fontana e la chiesa. La fontana in sostanza non verrà più usata come centro di una rotonda, verrà cambiata la viabilità, l'accesso e l'uscita saranno tenute verso l'attuale barra e non più appunto girando attorno alla fontana. Si andranno a perdere due parcheggi ecco ma ne vale la pena per ridare dignità a una piazza che costituisce proprio il simbolo, il punto più importante per la comunità di Desenzano e mettendo anche in sicurezza questo elemento architettonico importante che è la fontana nonché i fedeli che entrano ed escono dalla chiesa. Abbiamo già sottoposto alla parrocchia questo progetto che ha ricevuto un'accoglienza molto favorevole, adesso avvieremo le procedure con la sovrintendenza per avere anche nulla osta dalla medesima. Nel giro quindi di un paio di mesi, tre mesi puntiamo di andare a gara per individuare la ditta che realizzerà questo intervento che bene o male cuba circa 120 mila euro. È in programma anche un intervento di riqualificazione di fronte alla chiesa di Santa Maria a Comenduno. Esatto, è lo stesso mutuo che va a finanziare anche questo intervento pure programmato l'anno scorso nel 2020, un intervento un po' più contenuto rispetto a quello della piazza di Desenzano, ma altrettanto importante perché si trova in un punto nevralgico proprio per la comunità di Comenduno, questa piazzetta intitolata Monsignor Gritti. Andremo anche qui a ampliare quello che è il sagrato della chiesa, a metterlo in sicurezza con un intervento pure con una pavimentazione in porfido e andremo a mettere in sicurezza anche tutta quella balaustra che corre a margine di questa piccola piazzetta. L'intervento cuberà circa 60 mila euro che con gli altri 120 mila porta a un totale di 180 mila. Questo è il quadro economico del mutuo che abbiamo acceso per finanziare questi due interventi. Sicuramente siamo un po' più in ritardo con l'intervento sulla piazzetta di Comenduno, ma anche pensiamo di portare avanti tutte quelle sono le procedure burocratiche con la sovrintendenza e per l'affidamento ai lavori almeno nel corso di quest'anno. Magari i lavori li vedremo all'inizio dell'anno prossimo, ma tutte le procedure cercheremo di espletarle alla fine, al termine di questo 2021.